E' sempre festa da queste parti, se non anche nella comunità dei lettori, quando esce un nuovo libro di Sasha Naspini. Sasha Naspini è qui con noi oggi, sono veramente molto contento di ridargli il benvenuto. Ciao Sasha, buongiorno, bentornato. Ciao, buongiorno, ciao. Allora, ne abbiamo parlato, abbiamo incontrato Sasha Naspini all'inizio di quest'anno, era uscito un altro libro, Errore 404, ma adesso siamo nella parte finale di questo anno e in realtà però alla fine di agosto un perfetto regalo da fine ferie, fammi dire, se può servire questa stupidaggine che ho appena detto, è uscito Bocca di strega per le edizioni E.O. di Sasha Naspini. il 28 agosto del 2024 e come Sasha ci ha abituato, diciamo, negli anni, i suoi racconti, le sue storie ci portano sempre sottoterra, ma anche dentro i meandri di noi stessi, insomma, per usare probabilmente un'espressione retorica, perché questa volta è in realtà, Sasha, insomma, correggimi se sbaglio, tu, insomma, di quella febbre dello scavo avevi anche parlato in questo libro, Le nostre assenze, questa volta, diciamo, in maniera molto differente, con un romanzo che ha un taglio noir molto molto spinto, devo dire, e in certi momenti sembrava anche un western, devo dire, no, in certe situazioni. Partiamo da qui, Sasha, allora, Bocca di strega, perché torni, diciamo, torni a parlare di questo tema, della febbre dello scavo, dei tombaroli, però ovviamente in un territorio che tu conosci benissimo, perché è il tuo territorio, Sasha. Sì, guarda, l'esempio di quest'anno è lampante, no, definisce due linee narrative, all'inizio dell'anno sono uscito appunto con Errore 404, che fa parte di quel filone narrativo più contemporaneo, insomma, con una vocalità di un certo tipo, una velocità anche di un certo tipo, ma anche occasioni narrative di un certo tipo, che alterno a quest'altro filone narrativo più territoriale, in questo caso che riguarda la Maremma, mi viene a pensare appunto alle case del malcontento, i cariolanti, le nostre assenze stesse, insomma, e Bocca di strega torna là, in questo pezzo di Maremma, è un'altra Maremma, una Maremma più marittima, e praticamente è il risultato di circa un anno di varie interviste fatte a personaggi di quel periodo, siamo nella Val di Cornia, quindi Alta Maremma all'inizio degli anni 70, e ho parlato con questi personaggi che mi hanno raccontato una Maremma nascosta, no? segreta, erano tombaroli, persone dalla doppia vita, era molto affascinante per me provare a raccontare questi personaggi che vanno dal contadino all'artigiano, il direttore di banca, l'operaio, che di notte si trasformavano appunto in tombaroli, ma soprattutto c'era l'occasione di provare a raccontare il rapporto con questa terra, no? che è particolare il nostro rapporto, cioè credo che siamo il popolo diciamo che bestemmia la propria terra più di tutti, no? Noi abbiamo il nostro Maremma con tutte le declinazioni del caso, insomma, già questo ti racconta qualcosa del nostro rapporto con la terra, che però, quindi Maremma, terra di Maremma, di Briganti, con tutti i suoi misteri, i suoi fascini e tutto il resto, però è anche una terra che in questo caso inaspettatamente può anche restituirti dei tesori, no? Quindi quella febbre dello scavo è un po' come cercare se stessi, l'ha detto bene prima, l'azione proprio di scavare ha a che fare forse anche con un gesto quasi da psicanalisi. Un gesto da psicanalisi, insomma abbiamo avuto qualche problema di connessione, ma niente di grave. Nelle sere d'estate i tombaroli di Maremma fanno banda nelle cantine e aprono le carte dei giornali svelando reperti meravigliosi. Nel disporre i tesori sui tavolacci bevono vino, intanto raccontano le avventure che hanno affrontato per portare lì vasi e bronzetti, buccheri e monili, sono sempre storie incredibili, ma nessuno azzarda una parola chiedendo di stabilire la verità. Conta la smania, è quella che va nutrita. E questa smania, insomma questo è l'incipit di Bocca di Strega di Sascha Naspini. Questa smania è, come posso dire, un'energia, una forza che percorre tutto il romanzo, tutte le pagine di Bocca di Strega e devo dire con dei versanti anche molto drammatici che tu racconti sempre in punta di penna, sempre con grande trasporto, con grande forza, insomma ancora una volta dal mio punto di vista, questo è un romanzo potentissimo anche dal punto di vista delle emozioni. Questa smania che immagino sia venuta fuori anche da quelle interviste che tu hai raccolto, perché tu in una delle interviste che hai rilasciato intorno a Bocca di Strega dici che in realtà tu, il tuo bardo l'hai incontrato in uno di questi racconti. Il bardo è il personaggio, il fulcro se vogliamo della storia di Bocca di Strega, no? Sì, bardo è il personaggio che innesca tutto, insomma, questo traffico. Io ho raccolto queste vicende, queste interviste, tra l'altro era molto divertente perché spesso venivano raccontate avventure fantasmagoriche, sentivo che dovevo fare anche un po' la tara a determinati racconti. Però grazie anche alla tecnologia, nel senso adesso basta avere degli abbonamenti dei giornali, andare negli archivi storici dei giornali, qua e là lampeggiavano delle connessioni con i racconti, quindi il fascino della terra, il fascino di questo rapporto. Poi siamo in un momento storico e in un territorio particolare, anche sofferente dal punto di vista proprio pratico materiale, materiale economico e la vita di questi personaggi che a un certo punto riescono, bardo è quello che lo intuisce prima di tutti, si ritrovano improvvisamente all'interno catapultati in un traffico di reperti etruschi che dalla Val di Cornia andavano nella Tuscia, dalla Tuscia sul Roma, dal Roma addirittura anche a Rifornia. Quindi traffici multimiliardari, ci sono articoli che parlano di bronzi di 40 centimetri che nei primi anni 70 venivano venduti nel mercato nero anche per mezzo miliardo delle vecchie lire. Quindi questi personaggi che a fatica riuscivano a mandare figli a scuola si sono ritrovati a un certo punto immischiati in questa grande occasione, però di base resta veramente questa febbre, perché al di là dei soldi poi, quello che mi interessava provare a raccontare era questa attrazione, questa sorta di dipendenza a un certo punto. Io stesso un po' l'ho sperimentato dal ragazzo, lo raccontavo nelle nostre sette, perché mi ricordo insomma queste fughe notturne quasi con degli amici, attrezzati con corde, pale, picchetti, un po' in una dimensione da Gunis, alla ricerca del tesoro, scoprire il bosco di notte. Entrare nel bosco di notte è un'esperienza particolare, è un po' come entrare sul ciglio di te stesso con il rischio di perderti, le bestie che girano di notte, i cinghiali, tutto il resto. Quindi tutte queste avventure un po' le ho sperimentate, anche in prima persona. E effettivamente negli occhi delle persone che ho intervistato si riaccendeva un po' quella fiamma, indipendentemente da tutte le avventure, i modi per far arrivare pezzi, così richiamano, sulle varie piazze. Era proprio quella chiamata allo scavo, la sensazione di scoperchiare una tomba immobile da magari 3.000 anni, da 3.000 anni, e essere il primo a rimetterci piede dentro, insomma, a toccare monofatti, oggetti, quella sensazione lì. Quella sensazione lì piaceva provare a trasportarla nelle pagine del libro. E poi le dinamiche che io poi racconto in Bocca di Strega, chiaramente è la storia che io ho costruito, è la mia storia che ho costruito partendo da varie vicende, da vari spunti, compreso il titolo Bocca di Strega. Fa impressione pensare che molti dei reperti etruschi esposti in grandissimi musei del mondo in realtà hanno questa origine, se vogliamo, queste storie molto, come posso dire, molto popolari, anche molto provinciali, perché, insomma, ancora una volta il pregio anche di Bocca di Strega è il racconto di questa provincia, che questa volta ha a che fare anche con il mare, con l'acqua, c'è un ristorante alla conchiglia che è un po' il luogo, diciamo, dove succedono tante cose, tante dinamiche di questo romanzo, ma quello che mi colpisce ancora di più è la costruzione dei personaggi, perché, come posso dire, qui abbiamo a che fare con ricchezze enormi, diciamo, tu hai parlato anche di valori economici, insomma, di miliardi, no? Che derivano dalla vendita di oggetti nelle mani di persone, assolutamente persone qualunque, che immagino, diciamo, abbiano anche avuto e abbiano anche un livello culturale non altissimo e che fanno i conti, diciamo, anche con quell'altra, diciamo, ferocia che è quella che ti viene dal possesso, no? E dalla ricchezza che ti arriva tutta in una volta. Immagino che, insomma, costruire anche questa dimensione, che restituisci benissimo nel romanzo, sia stato un po' complesso oppure no? Sì, sì, ma è sempre divertente, no? Hai tanti elementi. Mi piace che tu dica divertente, cioè questa cosa, cioè per noi che leggiamo è anche, diciamo, entrare dentro la complessità della psiche, tu dici sempre questo, quindi evidentemente ancora per te la scrittura è un momento di grande, anche di grande divertimento, di grande coinvolgimento. È anche quello, è anche quello, nel momento in cui, almeno per quanto mi riguarda, intuisco, diciamo così, banalizzando il gesto di una storia, no? Cosa voglio fare con quella storia là, cosa voglio raccontare, in quale territorio mi voglio immergere, no? Fare immergere poi, io sono il mio primo lettore, quindi avendo a disposizione in questo caso tanti elementi, tanti spunti, poi costruire le dinamiche umane tra questi personaggi, ma soprattutto i profili interiori, no? E i rapporti appunto con la terra, con queste improvvise ricchezze, con quel gesto in cui appunto la terra ti restituisce inaspettatamente l'occasione per cambiare la tua vita, no? Certo. E quindi c'era una val di cornia, diciamo, che sopra si muoveva in un certo modo, sopra rappresentava una cartolina e sotto invece, girando questa cartolina si trova del tutto un altro panorama, insomma, proprio sotterraneo per l'appunto. Sì, mi sono anche divertito, sì, appunto, nel costruire i profili di questi personaggi che a un certo punto arrivano a scontrarsi con un'altra piazza, quella della Tuscia, perché la dinamica vera e storica, insomma, anche se prima degli anni 70 c'erano normative legate alla tutela del patrimonio culturale, però era tutto molto più blando, molto più leggero. A un certo punto viene istituita la TPC, proprio il Corpo dei Carabinieri, per la tutela del patrimonio culturale. A quel punto la storia, quella con l'S maiuscola, cambia, soprattutto nella zona della Tuscia, dove ci sono le prime retate e questi tombaroli che da anni, insomma, vivevano grazie a ciò che veniva restituito dalla terra, si ritrovano improvvisamente bloccati e a quel punto entrano in contatto con i tombaroli d'Alta Maremma. Dopo varie dinamiche, dopo vari scontri c'è il passaggio di mano da Bardo, il fulcro maremmano del traffico, al figlio Giovanni, detto veleno, che però non si dimostra all'altezza del padre. Prima di tutto decide di scavalcare la Tuscia, andare direttamente a vendere sul Roma, no? E da lì comincia appunto tutta una dinamica. Sì, sì, una dinamica che poi diventa, ripeto, anche un thriller diventa un noir. Se tu sei d'accordo io non darei elementi rispetto anche al titolo, perché Bocca di Strega ha dentro di sé tanti significati che si scoprono leggendo questo romanzo, che qualcuno ha definito insomma un romanzo corale, ma questa volta secondo me non siamo dalle parti, diciamo, del romanzo corale. Qui questo è un puzzle in cui tutti i vari personaggi con delle storie tutte molto interessanti compongono, diciamo, questo, mettiamolo così, una fresco, insomma, chiamiamolo come vogliamo. Non so se anche tu ci hai tenuto anche un po', diciamo, forse, a correggere rispetto al fatto che c'è una bella differenza. Questo non è un romanzo, diciamo, corale come poteva essere le case del malcontento. Però siccome abbiamo ancora qualche minuto, volevo chiederti anche del ruolo delle donne, perché anche qui le donne hanno un ruolo importantissimo, molto forte, che ci permette, come dire, anche di contrappuntare ulteriormente, diciamo, i protagonisti maschili, no? Dalla moglie del bardo fino a Silvana, la principessa Silvana, i suoi sogni parigini. Insomma, le donne anche questa volta vengono costruite con grande maestria, questo lo dico io. Adesso, insomma, dimmi cosa ne pensi. No, è vero, no, è vero. Cioè, volutamente, c'è Silvana, la prostituta di Via della Principessa, che diventa un po' il... è anche un po' il... come si dice... il totem, no? Oggi abbiamo qualche problema con la connessione con Sascha Naspini. Prego, prego, se riusciamo a concludere questa conversazione, perché, insomma, ogni tanto ti perdo. Prego, ecco, ti rivedo. Adesso ci sono... Sì, 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 ci sei, ci sei, eccoci. Ah, ok. No, dicevo, sì, no, il ruolo delle donne è fondamentale, partendo esattamente dalla moglie di bardo, che paradossalmente, invece di essere la moglie e godere dei risultati del lavoro del marito, si combatte, ecco, questa attività, diciamo, arrivando addirittura a denunciarlo, no? A denunciare, a seguito di un determinato evento, il traffico che sta mettendo in piedi. In realtà, ecco, detto in soldoni, al di là delle avventure, le storie, le vicende legate al mondo dei traffici, dei reperti etruschi, forse bocca di strega nella base, della base è una storia d'amore, alla fine. Una storia d'amore, ma è bellissimo, c'è questa definizione, ci lascia, mi hai lasciato senza parole, perché penso avresti ulteriormente argomentato, però effettivamente una grande storia d'amore che parla comunque di sotterranei, che parla dei nostri luoghi più reconditi, perché in realtà, insomma, succede qualcosa che non dirò neanche sotto tortura, perché lì, insomma, si fanno i conti, come dire, con ciò che si è, anche con questa febbre, con questa febbre che è una febbre meravigliosa, contenuta all'interno di bocca di strega, insomma, sto andando verso la conclusione, perché siamo anche in coda a questa puntata, bocca di strega di Sascha Naspini, pubblicato dall'edizioni E.O. il 28 agosto. Allora, Sascha, intanto, grazie davvero per essere stato ancora una volta qui ad almeno due pagine al giorno a raccontarci bocca di strega. Ricordo, per chi fosse a Torino, che l'8 novembre Sascha Naspini sarà a Torino a presentare bocca di strega alle 20.30 alla libreria Comunardi, per cui, insomma, se fosse da quelle parti, Sascha Naspini è lì a raccontare bocca di strega. Sascha, grazie ancora e buona giornata, a presto. Grazie a te, grazie a voi, a prestissimo.